amici dello sportello del cittadino ci troviamo in via fratelli mellone nelle vicinanze per capirci della chiesa sacro cuore all'altezza di via dante e vedete questo lato praticamente è su questo lato è vietato parcheggiare motivo per il quale ci sono delle strisce gialle e fin qui tutto ok il grosso problema è che sono state è stata messa una quantità mostruosa pazzesca di paletti vedete partono da qui e vanno a finire all'infinito guardate fino in fondo contandoli non lo so quanti saranno saranno 2 4 6 8 10 12 forse arriveremo a 25 paletti circa ora capisco che la funzione dei paletti è quella di è quella di evitare che il cittadino parcheggi però viva dio questo è uno spreco di danaro pubblico questi paletti signori cali sono stati comprati dall'amministrazione comunale hanno un costo e bastava metterne alcuni 4 5 anche per lungo giusto per far capire ma a questo punto signori miei quanto viene a costare ad un'amministrazione questa 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 schiera questo esercito di di archetti neanche paletti mi sembra davvero una cosa incredibile forse qualche stupido getta acqua da sopra ma sono cose che che capitano guardate tutti questi paletti dall'inizio alla fine evidentemente cosa dire forse ci domandiamo ma veramente c'è il dissesto a taranto perché non si giustifica questa questa spesa davvero sproporzionata e spropositata grazie a tutti grazie a tutti